Buona domenica e benvenuti al consueto appuntamento con il riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa iniziamo con lunedì 15 aprile mafia droga e corruzione controllo sulle asse giudiziarie operazione atena dei carabinieri del comando provinciale di catania che hanno eseguito nella provincia atnea di siracusa e di teramo un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di 17 persone sono 17 le persone arrestate nella provincia di catania siracusa e teramo accusate a vario titolo di associazione mafiosa associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spaccio di sostanze stupefacenti turbata libertà degli incanti con l'aggravante del metodo mafioso e corruzione l'operazione si chiama atena e ha coinvolto in queste ore 300 carabinieri ed è partita dalla denuncia di un imprenditore di paternò nel catenese minacciato da alcuni mafiosi per farlo ritirare dalla vendita all'asta un lotto di terreni nel corso dell'indagine è emerso che sarebbero coinvolti elementi di vertice del gruppo morabito rapisarda legato al clan catenese laudani e operativo proprio nell'area di paternò il gruppo pare volesse controllare sistematicamente le aste giudiziarie di immobili nella provincia di catania di siracusa il metodo per scoraggiare la partecipazione alle gare avrebbe previsto l'intervento fisico di alcuni membri del clan per allontanare anche con la violenza i partecipanti all'asta così da garantire a persone legate al clan l'acquisto o il rientro in possesso del bene in questione l'esito delle aste favorevole al clan avrebbe garantito al gruppo guadagni consistenti condivisi anche con il clan assinnata articolazione della famiglia di cosa nostra di catania santa paola ercolano questo pare sarebbe un patto di coabitazione in una delle aste pilotate sarebbe coinvolto anche un avvocato siracusano che avrebbe favorito la giudicazione di un appartamento al figlio del soggetto che si era rivolto all'associazione mafiosa tra le attività illecite dei morabito rapisarda ci sarebbero però anche il traffico e lo spaccio al dettaglio di stupefacenti nel corso delle indagini sono stati infatti sequestrati complessivamente circa 71 chili di droga tra marijuana e cocaina in questo senso otto persone sono state arrestate in fragranza di reato violenza sessuale di gruppo a palermetani di una turista canadese i carabinieri hanno stretto le manette ai polsi di due palermitani il racconto della vittima ha incontrato il suo violentatore in ospedale dove era andata a trovare il fidanzato ricoverato l'uomo lavorava lì come inserviente due palermitani sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo avrebbero violentato lo scorso mese di novembre una turista in vacanza a palermo i carabinieri del nucleo operativo palermo piazza verdi hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere e messa al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo siciliano su richiesta alla procura nei confronti dei due uno di 41 anni e l'altro di 44 l'indagine condotta dai carabinieri ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare a carico dei due che secondo quanto ricostruito avrebbero violentato una turista nel novembre del 2023 l'immediata attività degli investigatori sotto la direzione della procura è supportata dalle competenze e dalla sensibilità dei militari appartenenti alla rete antiviolenza del comando provinciale carabinieri appositamente attivata per questo tipo di reati contraddistinti all'abuso e dalla violenza fisica e psicologica della vittima ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e la presunta responsabilità degli autori del reato gli indagati sono attualmente detenuti al carcere lorusso pagliarelli martedì 16 aprile avrebbero riciclato grosse somme di denaro dei clan mafiosi grazie a imprenditori compiacenti ed esperti della finanza blizz tra trapani e palermo 11 arresti e 12 indagati nelle province di trapani palermo come rimini carabinieri del comando provinciale di trapani insieme ai militari del nucleo investigativo di palermo in collaborazione con quelli territorialmente competenti hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 11 persone di cui 6 destinatari della custodia cautelare in carcere 5 della misura degli arresti domiciliari indagati a vero titolo in concorso fra loro dei reati di associazione mafiosa corruzione turbativa d'asta trasferimento fraudolento di valori ricettazione e auto riciclaggio altre 12 persone sono state raggiunte da informazioni di garanzia l'indagine ha consentito di acquisire gravi indizi circa la convergenza di illeciti interessi di appartenenti alla famiglia mafiosa di salemi il mandamento di mazzarale il vallo esponenti di spiccoli cosa nostra palermitana e imprenditori consistiti nell'attribuzione fittizia due imprenditori palermitani della titolarità esclusiva di quote di una società di capitali appositamente costituita per eludere l'applicazione della normativa di prevenzione patrimoniale e agevolare l'impiego di denaro provento del delitto di associazione mafiosa nell'acquisizione di numerosi supermercati di una nota società della grande distribuzione italiana nelle province della sicilia occidentale l'acquisizione non si concretizzava per diverse scelte aziendali da parte della società l'indagine ha fatto emergere la turbativa d'asta nella gara indetta dalla società di pubblico servizio che gestisce la rete di erogazione dell'energia elettrica a favignana per la realizzazione di quattro linee di distribuzione media tensione e due cabine di trasformazione di media bassa tensione in modo da far risultare vincitrice una società di due imprenditori mazzaresi nel medesimo contesto sono stati acquisiti gravi indizi per quanto riguarda il pagamento di somme di denaro da parte di due imprenditori per essere incaricati del trasporto della carburante necessario per il funzionamento della centrale termoelettrica di favignana si intitola dall'indignazione all'azione un salto di qualità del sistema per il contrasto alla violenza di genere ed è l'iniziativa organizzata dal presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici insieme all'associazione Emili. Ho voluto anche promuovere assieme a Emili questo incontro proprio perché credo che noi siamo in presenza di un dato che la cronaca ci consegna ma in cui diciamoci la verità la politica e le istituzioni sembrano balbettare non riescono a individuare modalità di contrasto efficaci se non come dire a volte anche demagogicamente l'inasprimento delle pene c'è chi propone la castrazione chimica ma la sostanza è una abbiamo bisogno di mettere in campo una strategia sistemica perché diverse istituzioni sono impegnate su questo fronte quello educativo innanzitutto la scuola la cultura quelli sociali le istituzioni sociali la sanità le politiche della famiglia l'associazionismo i centri antiviolenza però dobbiamo costruire una rete sistemica cioè creare le condizioni perché tutta questa strategia abbia anche una sua un suo coordinamento una sua efficacia una sua strategia di risultato il nostro policlinico ha un pronto soccorso dedicato alle donne che sono vittime di violenza che ha a disposizione un'equip multidisciplinare per le cure del caso sia dal punto di vista psicologico e quindi di accompagnamento a quelli che sono i problemi diciamo della sfera emotiva che è un pronto soccorso di tipo ostetrico e medico in particolare il policlinico si contraddistingue rispetto alle altre aziende per la presenza al suo interno della medicina legale che è disponibile per tutta la giornata e per tutta la notte nel caso di violenza la medicina legale è fondamentale perché permette di riconoscere con gli strumenti adeguati professionali la violenza quindi i segni della violenza chiaramente il ruolo fondamentale pure che arrivesse al policlinico è quello didattico perché la nostra è un'azienda che ha diverse anime, ha l'anima assistenziale ma anche quella della ricerca e della didattica quindi dal punto di vista formativo perché bisogna incidere sulla formazione proprio per riconoscere la violenza e per poterla prevenire ovviamente il policlinico si incentra la sua attività anche sull'aspetto formativo e lo mette a disposizione delle altre aziende i casi sono numerosi addirittura nel report ministeriale nell'ultimo trimestre già è stato riportato che le vittime sono numerosissime però quello che vi posso dire è che io per non dare dei numeri che possono essere poi contraddetti vi dico una cosa che la nostra regione, quindi parlo a questo punto di regione siciliana è assolutamente in linea con i dati rispetto alle altre regioni d'Italia La violenza di genere è solamente la punta di un iceberg è costituito da discriminazioni in ogni ambito dal lavoro, in Sicilia una donna su tre lavora quando lavora è un lavoro precario la discriminazione economica pochissime donne hanno un conto corrente e intestato personalmente e per esempio la carta europea dei diritti delle donne impone che qualsiasi paga, qualsiasi stipendio vada direttamente a un conto intestato alla donna perché anche un conto corrente e cointestato è la manifestazione di un controllo dell'uomo sulla donna le manifestazioni del disequilibrio di genere della nostra società sono tantissime Mercoledì 17 aprile, mafia e corruzione al comune di tre mestieri arrestato il sindaco, sospeso il vicepresidente della regione siciliana San Martino 11 indagati tra politici, funzionari, comunali ed imprenditori Scambio elettorale, politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti sono questi i reati per cui oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Catania nell'ambito dell'operazione Pandora hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare messa dalla giudice per le indagini preliminali del Tribunale Etneo nei confronti di 11 persone tra esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori le indagini portate avanti tra il 2018 e il 2021 avrebbero fatto emergere gli accordi illeciti tra alcuni amministratori del comune di tre mestieri Etneo in provincia di Catania ed elementi vicini alla cosca mafiosa Santa Paola Ercolano riguardanti l'elezione nel 2015 dell'attuale sindaco Santi Rando destinatario della custodia cautelare in carcere per scambio elettorale, politico mafioso e corruzione aggravata quanto la successiva degenerazione affaristica dell'ente messa in atto dai funzionari infedeli mediante delle fasi corruttive per concedere permessi e assegnare lavori agli imprenditori amici stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini ci sarebbe stata una strategia dei vertici comunali per neutralizzare ogni forma di opposizione politica l'accordo corruttivo con lo storico consigliere d'opposizione Mario Ronsisvalle destinatario degli arresti domiciliari per istigazione alla corruzione poi transitato tra i sostenitori di Rando per le amministrative del 2021 titolare di una farmacia a tre mestieri Etneo anche tramite l'intervento del vicepresidente della regione Luca Sanmartino destinatario della sospensione per un anno dei pubblici uffici per corruzione aggravata principale referente politico del primo cittadino e all'epoca dei fatti deputato regionale Ronsisvalle sarebbe stato avvantaggiata attraverso la riduzione del numero delle farmacie presenti nella pianta organica comunale promettendo in cambio il sostegno elettorale per le elezioni europee del 2019 al candidato sostenuto da San Martino inaugurata a Palermo la biblioteca blu di Palazzo Jung il progetto dedicato al novecento a cura di Alessandro De Lisi prende vita all'interno dell'iniziativa il museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino la cosa più bella di questo museo quando si pensa a un museo si pensa a qualcosa di passato invece noi qua lei trova quella scritta qui facciamo futuro cioè questo sarà il posto dove la memoria di quelle terribili stragi del 93 la loro storia quello che il lavoro che avevano svolto e quello che pensavano di fare ecco tutto questo sarà detto adesso i giovani di tutta Italia che qua potranno venire fare convegni accostarsi agli altri giovani quindi questo è per certi versi il punto di arrivo della fondazione Falcone ma allo stesso tempo un punto nuovo di partenza in modo migliore per contrastare le mafie da qui sicuramente perché come diceva Giovanni la mafia è un fatto culturale e quindi come tale deve essere combattuto oltre la repressione l'impostazione che abbiamo dato alla commissione parlamentare antimafia è quello di parlare sempre ai più giovani perché quello che è successo qui non succeda più soprattutto possa vedere la sua fine lei fa parte anche di una generazione che ha vissuto quegli anni da piccola avuto coscienza consapevolezza noi viviamo in una terra come la Sicilia come Palermo dove facciamo ancora i conti colpizzo, col racket, con le minacce, con le estorsioni, con il voto di scambio ecco quanto c'è ancora da fare e quali sono le prospettive secondo lei? C'è moltissimo da fare, io ero una bambina ricordo le immagini al telegiornale ma tutta la mia attività politica ha poi voluto ricalcare quella storia non a caso la commissione parlamentare antimafia si è occupata subito dei famosi 57 giorni che dividono la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio purtroppo la criminalità organizzata e nello specifico la mafia, cosa nostra, non hanno ancora trovato la sua fine anche se li abbiamo, e questo lo possiamo dire col sorriso, inferto colpi durissimi in ultimo quello relativo a Messina Denaro che anche stamattina continua a portare avanti filoni come leggiamo dalle indagini, ma la mia paura, che è la paura che condivido con voi è che questa rivolta civile che è partita anche e soprattutto da Palermo possa affievolirsi e possa quindi lasciare spazio alle nuove forme della criminalità organizzata tra queste nuove forme c'è quella sempre verde del voto di scambio che credo sia una piaga da estirpare soprattutto perché toglie ai cittadini la possibilità di fidarsi della propria classe politica elettorale Giovedì 18 aprile, l'inchiesta Pandora prosegue con gli interrogatori davanti alla GIP di sei persone Sono stati interrogati oggi dalla GIP di Catania, Carla Aurora Valenti le sei persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta Pandora della Procura di Catania I primi ad essere interrogati dal GIP sono stati il sindaco di Tre Mestieri, Santi Rando Poliziotto da anni in aspettativa, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per scambio elettorale politico mafioso e Pietro Alfio Cosentino, ritenuto e referente della clan Santa Paola Ercolano a Tre Mestieri Rando nel corso degli interrogatori ha fatto sapere di essersi dimesso da sindaco Già ieri il prefetto di Catania ha sospeso dall'incarico insieme con il consigliere comunale Mario Ronsisvalle ai domiciliari Secondo la Procura di Catania i funzionari corotti avrebbero ricevuto denaro e altre varie utilità Si è avvalso invece della facoltà di non rispondere davanti al GIP ma ha reso dichiarazioni spontanee Pietro Alfio Cosentino, ritenuto e referente della clan Santa Paola Ercolano a Tre Mestieri Etneo Sentiti i quattro indagati arrestati e poste domiciliari Giovanni Naccherato, dirigente del comune L'architetto Puccio Monaco, all'epoca dei fatti consulente a titolo gratuito del sindaco L'ingegnere Paolo Di Loreto E lo storico consigliere d'opposizione Mario Ronsisvalle Poi transitato tra i sostenitori di Rando alle amministrative del 2021 Sarà interrogato invece domani il deputato regionale Luca Sanmartino Indagato per corruzione dalla Procura di Catania Strage di Altavilla Giovanni Barreca racconta al suo avvocato una nuova versione dei fatti Secondo i quali un imprevisto evento atmosferico Interpretato da lui e dalla coppia Sabina Fine e Massimo Carandente Come segno della presenza dei demoni I tre avrebbero lasciato la villetta con la minorenne chiusa e bendata nella sua stanza Ultimi sviluppi sulla strage di Altavilla Milicia Con una nuova verità raccontata da Giovanni Barreca Al suo avvocato Giancarlo Barracato E alla consulente della difesa nella valutazione della capacità di intendere e di volere dell'uomo La criminologa Roberta Bruzzone La versione di Barreca è al vaio degli inquirenti della procura di Termini Merese E dei militari della compagnia della cittadina palermitana Che hanno accompagnato l'avvocato Barracato e l'Abruzzone sul luogo del delitto Dove i due hanno effettuato nuovamente alcuni rilievi Nel carcere di Enne il detenuto avrebbe detto all'interno del colloquio Che dopo gli omicidi della moglie e di due dei tre figli Doveva essere sacrificata anche la figlia maggiore di 17 anni Anche lei in carcere in una struttura minorile femminile La quale era stata legata e portata in camera abbendata Solo che durante l'esorcismo su Altevilla si è abbattuta una bufera Tanto che la notte tra il 10 e l'11 febbraio I vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per alberi caduti E danni provocati dalla bufera di vento Dicono l'avvocato e la consulente Un segno della presenza dei demoni per i tre Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente I quali avrebbero abbandonato la villetta lasciando la figlia chiuse in camera Barreca sarebbe andato via in ciabatte E dopo aver dormito in auto e aver chiamato prima la sorella e poi il fratello Alla fine si rivolse ai carabinieri per consegnarsi Secondo Barreca, gestire l'esorcismo sarebbe stata Sabrina Fina Che in un aramaico inventato dava istruzioni su cosa fare Sarebbe stata la voce di Dio Antonella Salamone invece sarebbe stata lasciata per terra per tre giorni senza cibo Sarebbe stata picchiata con una padella ogni volta che si ribellava L'avrebbe picchiata Fina ma anche il figlio Kevin Una volta uccisa la donna sarebbe stata bruciata in una fosse realizzata nel terreno della villetta Con il corpo avvolto in un piumone su cui sarebbero stati versati tre litri di benzina E ricoperto il corpo da oggetti di ceramica Sarebbe stato creato un effetto forno che da venerdì avrebbe continuato a bruciare per tre giorni Poi toccato al piccolo Emanuele di cinque anni Morto anche lui lasciato legato per giorni senza cibo A questo punto l'altro figlio Kevin avrebbe iniziato a ribellarsi Sarebbe stato legato dai due fanatici e picchiato, legato e incaprettato Quando toccava Miriam la bufera avrebbe messo in fuga i tre Venerdì 19 sono sereno, ho risposto per dimostrare la mia totale innocenza Lo afferma il deputato regionale della Lega Luca San Martino Sospeso da cariche pubbliche per un anno dopo l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Catania Assistito dal suo legale avvocato Carmelo Peluso Interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Catania Stamani alla Palazzo di Giustizia del deputato regionale della Lega Luca San Martino Assistito dal suo legale l'avvocato Carmelo Peluso San Martino dopo la notifica del provvedimento si è dimasso dalle cariche di vice governatore Assessore regionale all'agricoltura Ho piena fiducia nell'operato della magistratura Queste le sue parole che ascoltiamo Ho risposto a tutte le domande che mi sono state poste Perché sono assolutamente estraneo alle vicende che mi vengono contestate Tengo a precisare che io non sono coinvolto perché ho letto purtroppo da testate giornalistiche e televisive Io non sono coinvolto in reati di mafia né in voto di scambio Mi vengono contestati due capi di imputazione sui quali ho risposto con grande serenità Dopo aver letto in questi pochi giorni le carte che mi sono state fornite E sono assolutamente sereno oggi di avere risposto a tutto ciò che mi veniva contestato Che è la corruzione su due fatti specie specifiche E ho risposto con grande serenità perché io non ho commesso atti di corruttela Ma soprattutto ho risposto per dimostrare la mia totale innocenza È passato un messaggio sbagliato riguardante l'accusa a San Martino Dovunque è stato indicato che un collaborante ha indicato San Martino come partecipante a chissà quale riunione mafiosa E questo dato non esiste nel senso che nelle contestazioni non è stato mosso alcun rilievo al dottore San Martino Riguardo a un'ipotesi di questo genere Le sue accuse sono solo due Una avere pagato 400 euro a un carabiniere per fare la bonifica delle cinici nella segreteria della politica E l'altra per avere in qualche misura collaborato con gli organi amministrativi di Termesier e Terneo Per fare abolire la settima farmacia della comune favorendo così un consigliere di minoranza Queste sono le uniche accuse rivolte a San Martino Da queste si difende Tutto il resto non è oggetto di alcuna contestazione da parte del pubblico ministero Iniziato il processo a sede degli imputati per il presunto stupro avvenuto lo scorso luglio a Palermo A danno di una giovane palermitana Gli avvocati che difendono i sei chiederanno il rito abbreviato che prevede uno sconto di un terzo della pena Oggi c'è stata la prima udienza del processo dello stupro di Palermo del Foro Italico Che è avvenuto nel luglio del 2023 È stata una data molto importante Nel senso che l'abbiamo aspettata tanto C'è stato il primo confronto in aula di tutti Tranne che della mia assistita perché è in protezione in una casa rifugio Quindi non è venuta Però i detenuti sono venuti tutti Sono venuti sei Cioè sono venuti cinque su sei Perché ricordo che il settimo è già stato condannato al Tribunale dei Minori A otto anni e otto mesi E questi ragazzi che sono venuti in aula Uno è rimasto collegato dalla casa circondariale nella quale è Mi si è chiesto da tutte le parti se avessi colto dei segni di pentimento in questi giovani Erano dei giovani normali Che né belli né brutti né buoni né cattivi all'aspetto Erano dei giovani che hanno assistito ad un processo Non so quanto lo abbiano sentito loro Era come se assistessero ad un processo di altri Questa è stata la mia sensazione L'attività di oggi è stata un'attività tecnica Perché si è parlato di costituzioni di parti civili Ci siamo costituiti parti civili Ma un'esperienza importante è stata quella di aver assistito Alla partecipazione della società civile Che si è costituiti Molte associazioni Difatti si sono costituiti parti civili Circa dieci Naturalmente si vedrà alla prossima udienza Se saranno ammesse o meno Nessun'altra attività è stata svolta Perché il giudice ha rinviato il 29 di aprile Per decidere sull'ammessibilità delle costituzioni di parti civili E proseguire l'attività anche sulla scelta del rito Ieri sabato 20 aprile Faida di Palma di Montechiaro Dopo un anno e mezzo I carabinieri di Agrigento Hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio Di Angelo Castronovo In manette Giuseppe Rallo Blizzo dai carabinieri di Agrigento a Licata Per fermare la faida di Palma di Montechiaro I militari del comando provinciale Con la collaborazione Dello squadrone ediportato Agazzatore di Sicilia Dal nucleo elicotteri E dal nucleo cinofili di Palermo Hanno dato esecuzione Ad una ordinanza Cota la rincarcere Emesso dal GIP Presse il tribunale di Agrigento Su richiesta Della locale procura della Repubblica Le manette sono scattate Per il presunto killer Giuseppe Rallo 31 anni Ritenuto l'autore dell'omicidio Premeditato Di Angelo Castronovo Il bracciante agricolo Ucciso il 31 ottobre del 2022 Incontro da Cipolla Tra Palma di Montechiaro E Licata Castronovo era considerato Dalle cosche Un traditore E per questo Nei suoi confronti Sarebbe stata emessa Una sentenza di morte L'attività di indagini Avrebbe consentito Di raccogliere Gravi e concordanti Indizi di colpevolezza Nei confronti dell'uomo Ritenuto essere stato L'esecutore materiale Della sentenza di morte Nei confronti di Castronovo La vittima Venne colta di sorpresa Mentre stava caricando Un escavatore Sull'autocarro Che aveva in uso Dopo aver effettuato Dei lavori agricoli Per conto terzi Incontrata da Cipolla Castronovo era stato colpito Da numerosi colpi Di arma da fuoco Al torace All'avambraccio destro Per poi essere finito Con un colpo al volto In classico stile Di esecuzione mafiosa Il movente dell'omicidio Si ritiene Possa essere inquadrato Nell'ambito Della faida Tra le famiglie Arrallo e Azzarello Di Palma di Montechiaro Colminata Con l'omicidio Di Enrico Arrallo E Salvatore Azzarello Vicenda nella quale Castronovo Si era trovato coinvolto L'arrestato di oggi E il cugino Di una delle due vittime Enrico Arrallo Arriva la pet therapy Per i piccoli pazienti Dell'oncoematologia pediatrica Dell'ospedale civico Di Palermo L'iniziativa In collaborazione Con Aia Spartinico Rientra nel progetto E l'associazione siciliana Contro le leucemie E i tumori infantili Dalla cura Al prendersi cura Finanziato dal ministero Delle politiche infantili Emozioni Emozioni a quattro zampe Un sabato di gioia A Villa Filippina Emozioni a quattro zampe E' un progetto Che l'associazione Ha sognato da anni Portare la terapia Assistita con gli animali In ospedale E' un passo da giganti In quello che è L'attività terapeutica Nei confronti Di tutti i pazienti Non soltanto Dei bambini Quindi Ci stiamo Muovendo Proprio Per fare questo E aspettiamo Veramente Con grande ansia Che ci venga autorizzato Proprio l'autorizzazione A poter portare I cagnolini In dei hospital Dove i bambini Saranno felici Di poterli accarezzare E giocare con loro Io penso che sia Un progetto davvero Importante Per questi bambini Ai quali Purtroppo Per ovvie ragioni Legate alla malattia Viene tolto Davvero tanto Quindi Il ritornare Ad avere un contatto Non solo con i giochi Ma anche con Gli animali Che secondo me Sono un bene prezioso Per i bambini Perché aiutano davvero A crescere Penso che sia davvero Molto molto importante Io ho una bimba Giorgia Che appunto ha avuto Anche lei La leucemia Noi abbiamo dei cani E abbiamo visto Comunque Come allontanarla Dai cani Per ovvie ragioni E' stato anche difficile Quindi il suo ritornare Ad avere un contatto Con i suoi cani E' stato davvero Una cosa meravigliosa Nel concreto Cosa farà il cane? Il cane E' un coterapeuta E' quale migliore Animale Dagli anni Dall'antichità E' il miglior amico Dell'uomo E' sempre stato definito Il cane Ed ecco Grazie a lui Che riusciranno A realizzare Dei lavori Di Accudimento Verso il cane Quindi proiettare Quelle che sono Le loro Difficoltà Che hanno Quotidianamente Quando fanno Le loro terapie Per migliorarne L'approccio E renderli Sempre più forti Questi bambini Perché è quello Di cui hanno bisogno Chi può erogare Questi tipi di interventi? Allora Possono essere erogati Solo da enti Che sono accreditati Con l'assessorato Regione Sicilia Salute Ecco importante Perché sono state date Delle linee guida Di indirizzo Ben specifiche Per la quale Esiste un'equip Multidisciplinare Esperta In interventi assistiti Con gli animali Composta Da responsabili Di progetto Da un veterinario Specializzato Che supervisiona Costantemente Gli animali E dai referenti Di intervento E dai codiutori Anch'essi specializzati Perché sono loro Grazie alle loro Competenze acquisite Che possono svolgere Questo tipo di interventi Potrebbe essere un primo assaggio Di quello che potrebbe essere Fatto anche all'interno Del nostro reparto Magari del DH Penso che sia Un tassello Anche importante Nello sviluppo Del miglioramento Dell'accoglienza Nei confronti Dei bambini Già iniziative Di questo genere Sono partite In altri centri Di un crematologio pediatrica Nel territorio nazionale Bari Cagliari Anche Al gasilini Di Genova E devo dire Che i colleghi Mi raccontano Che l'impatto Da parte dei bambini E dei ragazzi Nei confronti Di questa possibilità Di accoglienza E di intrattenimento È stato veramente entusiastico Ed è tutto Grazie per essere stati Con noi Vi auguro ancora Una buona domenica Arrivederci Terra A A A